Valli di Chioggia. Brutta avventura per tre famiglie nella zona di Piovini. Sono state prima narcotizzate con lo spray e poi ripulite dai ladri che hanno agito indisturbati. Nel bottino con tanti gioielli, oro e generi alimentari. Nella stessa notte i ladri hanno tentato di entrare anche in altre villette di via Valdirose senza riuscire a portare a termine il piano. In tutti gli episodi la tecnica è sempre stata la stessa, quindi si tratta con ogni probabilità di una banda. I ladri forano il vetro di una finestra al piano terra e riescono ad aprire la maniglia senza far rumore. Poi si introducono in casa e spruzzano uno spray narcotizzante che impedisce alle persone di svegliarsi per poi per lustrare in tutta calma la casa alla ricerca di oggetti di valore.